Pavia Italia Speciale Weekend e molto importante che si tiene proprio a Vigevano mercoledì 19 dicembre ed è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di astronomia e non solo. Per parlarne insieme a noi c'è oggi Davide Cirioni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che è il vicepresidente dell'Avda di Vigevano. Sì, la nostra associazione è una piccola associazione di appassionati di astronomia nata nel 1996 qui a Vigevano e grazie appunto al nostro nome divulgazione astronomica abbiamo proprio pensato di, oltre a divulgare l'astronomia nelle scuole come facciamo di solito con corsi, osservazioni e eventi eventualmente organizzati anche al grande pubblico abbiamo pensato quest'anno di proporre qualcosa di diverso. Veramente qualcosa di diverso, qualcosa di eccezionale perché mercoledì 19 dicembre alle 21 nelle sale della Cavallerizza del castello di Vigevano arriverà Paolo Nespoli il grande uomo italiano, l'unico uomo italiano che è stato in orbita per ben sei mesi. Lui è un astronauta di fama internazionale, manco a dirlo, ha fatto numerose operazioni prima dei sei mesi in orbita, però è il motivo per cui è più famoso. Esatto, proprio perché ha passato una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale quindi sei mesi passati sulla stazione in assenza di gravità a svolgere operazioni ed esperimenti che sulla Terra, proprio per la presenza della gravità, è impossibile andare a riprodurre. Paolo è una persona assolutamente normale, ha studiato come tutti i ragazzi, è nato a Milano, è vissuto in un paesino della Brianza e ha iniziato la scuola un po' svogliato, non era troppo interessato, lui interessavano le cose pratiche. Finita la scuola, ha intrapreso la carriera militare, doveva assolvere il servizio militare, è stato per molti anni nel servizio militare, ha prestato anche attività per la guerra di pace in Libano, per la missione di pace in Libano. Un militare di professione, un paracaduttista, un incursore, e lì ha avuto la fortuna di conoscere Eurema Fallaci che l'ha un po' spinto a far emergere il suo desiderio, quello di diventare un astronauta. E' nato e vedeva da piccolino in televisione le immagini dell'uomo che passeggiava sulla Luna e quindi è nata un po' tutta questa voglia di fare l'astronauta. La Fallaci l'ha spronato, infatti è tornato in Italia alla fine della missione di pace, è andato negli Stati Uniti, si è laureato in ingegneria aerospaziale e aeronautica, è ritornato in Italia ed ha preso un'altra laurea in meccanica, dopodiché ha cominciato a lavorare per un'azienda che si occupava di satelliti o comunque accessori per dei satelliti. Entrando già in questo campo ha avuto poi la possibilità e le conoscenze di andare a lavorare per l'ESA, essere assunto dall'ESA, non come astronauta, subito come astronauta, ma come assistente alle procedure degli astronauti, come tecnico, ingegnere. Ha fatto il concorso poi per diventare astronauta nel 1998 e da quel momento in poi sono iniziati anni dove, tra Houston, in Texas, dove ha sede il corpo astronauti della NASA, dove a Colonia, in Germania, dove c'è la sede dell'Agenzia Spaziale Europea, tutti i training, eccetera, e la città dello spazio, in Russia, ha passato questi anni ad esercitarsi e a prendere tutti i vari brevetti per le abilitazioni necessarie per pilotare addirittura la Soyuz, per gestire tutti gli esperimenti all'interno della stazione spaziale. Quindi una storia veramente particolare è quella di Paolo Nespoli, una storia fatta di grande passione che l'ha portato a conseguire il suo desiderio, il suo sogno. Stiamo vedendo delle immagini proprio tratte da una delle sue missioni. Questa è la Terra vista dal satellite. Questa è la Terra vista dalla Stazione Spaziale Internazionale, a sinistra vediamo i pannelli solari che alimentano la stazione spaziale e questi filmati sono da godersi proprio per il fatto che si vede questa Terra vista dallo spazio. Lui la descrive come qualcosa di senza confini, quindi non si notano i confini geografici tra le varie nazioni, non si vedono tutte le varie sfumature che poi da Terra invece sono viste, e quindi confini anche politici eccetera. Ecco, quindi in questo commento si vede già anche il Paolo Nespoli filosofo, nel senso che lui appunto dicevamo è un grande oratore, non è solo un ingegnere, è anche una persona che sa affascinare con i suoi racconti. Ha scritto anche un libro, i problemi dall'alto sembrano più piccoli. Ecco, quindi mi voglio riportare un po' al fatto dei confini politici che dicevi, alla fine forse visto da fuori tutto il casino che facciamo sulla Terra. Non assolutamente. Allora, lui sarà a Vigevano il 19 di dicembre alle ore 21 in Cavallerizza, a disposizione di tutti perché l'appuntamento è veramente aperto a tutti, tutti quelli che sono appassionati di astronomia, oppure nell'occasione volessero appassionarsi, oppure volessero portare i bambini che sono... I bambini, questo è il momento giusto per portarli. Racconterà in questa conferenza che terrà appunto in Cavallerizza, della sua esperienza sulla stazione spaziale. Quindi racconterà come si è riabituato alle cose molto più semplici o semplici che si fanno regolarmente sulla Terra, ma che sulla stazione spaziale in assenza di gravità sono più complicati. Davide, che cos'è una stazione spaziale? Allora, la stazione spaziale, abbiamo visto alcune immagini nei filmati, è forse la più grande collaborazione internazionale che ci sia mai stata a livello di missioni spaziali. Sono interessate tantissime agenzie nel mondo, NASA, ESA per l'Europa, JAXA per il Giappone e la Russia con la Roscosmos. Hanno costruito questo avamposto a 400 che orbita... È un'astronave? È un... Parole povere. Sì, possiamo chiamarla... Ok, è qualcosa che orbita... È qualcosa che orbita attorno alla Terra a 400 km di altezza, a circa 28.000 km all'ora. E si trova in una situazione di microgravità, quindi in assenza di peso. Questa assenza di peso permette, visto che sulla stazione spaziale ci sono moduli, sia moduli abitativi che moduli dove si fanno esperimenti scientifici, permette agli scienziati di fare esperimenti in assenza di gravità, quindi in condizioni particolari che sulla Terra si potrebbero solamente simulare per alcuni secondi. Ecco, qua vediamo un'immagine dove Paolo Nespoli è in compagnia di un altro italiano, no? Chiamiamolo magari l'erede di Nespoli. Esatto, Roberto Vittori che con la missione... Paolo era sulla stazione spaziale per sei mesi, Roberto Vittori è andata con la penultima missione dello shuttle, STS 134. Due italiani per la prima volta insieme sulla stazione spaziale e nemmeno farla apposta per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Tanto che hanno portato la bandiera italiana... Esatto, Roberto Vittori con lo shuttle ha portato una bandiera italiana che poi è stata donata al Presidente della Repubblica Napolitano proprio al suo ritorno, al loro ritorno a terra. Ecco, mi aggancio con la missione STS 134 di Roberto Vittori proprio per dire che il moderatore della serata, che è l'ingegnere Marco Molina, che è di Vigevano, ha collaborato per 15 anni allo sviluppo di un esperimento che è stato installato proprio durante la missione di STS 134 dagli astronauti dello shuttle sulla stazione spaziale internazionale. Quindi avremo comunque anche un altro esponente vigevanese in questo caso della storia dello spazio, in questo caso della storia della stazione spaziale. Bene, quindi l'avventura di Nespoli, l'ultima, è iniziata nel 2010, esattamente il 15 dicembre, e il 23 maggio del 2011 è rientrato sulla Terra. 157 giorni, insomma, a dirlo sembra. Sembra, è un bel numerone, inimmaginabile, perché noi non possiamo immaginarci ciò che succede e capita sulla stazione spaziale internazionale. E quanti erano nella stazione? Perché io ho visto un'altra foto dove era un bel gruppo, eccoli qua, ecco. Ci sono, ecco, in questo caso si vedono i componenti di una missione shuttle più i componenti che abitano abitualmente la stazione spaziale. Di regola la stazione spaziale è abitata dalle 3 alle 6 persone. La stazione spaziale non viene mai abbandonata? Qualcuno c'è sempre? No, dal 2000 in poi è sempre abitata, dalle 3 alle 6 persone. E poi ci sono gli shuttle, vabbè, c'erano gli shuttle, che andavano a, innanzitutto, a fare manutenzione sulla stazione spaziale e portare degli esperimenti. Porteranno anche da mangiare, no? Certo, sì. Ma cosa mangiano gli astronauti? Purtroppo non il cibo che mangiamo qua, o almeno. Si portano una parte del cibo, quindi magari Nespoli aveva fatto fare delle bustine di salumi o comunque di formaggio da portare per lui come bagaglio personale. Che mi sa che andavano a ruba, perché se gli altri erano americani e russi... E di solito si mangiano i cibi liofilizzati, la scatoletta e comunque i cibi che non è facile compararli con il classico cibo che mangiamo qua. Comunque liofilizzati. La maggior parte dei cibi liofilizzati. Ho capito. Poi Paolo, nella sua esperienza di sei mesi, era il principale responsabile dell'attracco di due moduli di rifornimento, uno europeo che era l'ATV e uno giapponese l'HTV. In quel caso venivano proprio trasportati viveri, abbigliamento, nuovi esperimenti, rifornimento di acqua e comunque anche oggetti personali loro. Nella sua permanenza... E anche perché queste persone stanno lontani, cioè sono persone che hanno a casa madri, padri, mogli, figli e quindi insomma deve essere dura la permanenza senza avere qualcosa che ricordi. Qualcosa che li tiene a contatto. Quella che alla fine è la loro realtà, la terra. Queste immagini sono fantastiche, sono solo alcune di quelle che si potranno vedere il 19 dicembre in Castello, in Cavalerizza, vigevano perché Paolo Nespoli appunto presenterà tantissime foto e parlerà delle sue esperienze. Regia, se me ne mandi ancora un paio facciamo dire a Davide che cosa sono, così per curiosità e poi chiudiamo. Avevo visto prima... Eccole qua, questa è la spezia, la parte delle cinque terre, si nota la spezia sulla sinistra. Ecco, i social network ultimamente, NASA ed ESA hanno puntato tanto sul fatto di sensibilizzare la gente. Qua notiamo la Sicilia, la Calabria, la parte della Puglia, il sud dell'Italia. Proprio per sensibilizzare la gente... Questo è un alba o un tramonto? Un alba o un tramonto, esatto, ripresa dalla stazione spaziale. Teniamo conto che orbitando a quella velocità, la stazione spaziale vede più o meno dalle 16 albe i 16 tramonti ogni giorno. Quindi per loro è assolutamente veramente molto bello vivere in una situazione del genere. Questo è solo un assaggio di quanto potrete vedere appunto mercoledì 19 dicembre alle ore 21 alla Cavalerizza del Castello di Vigevano in compagnia dell'Avda, ma soprattutto di Paolo Nespoli, il grande astronauta. Io ringrazio per essere stato qua con noi Davide Cirioni. Grazie a voi. Grazie. E con voi, cari telespettatori, l'appuntamento è alla prossima. Un bacio, ciao. Ciao.